Benvenuti da Krudoff, sono lo Chef Nestor e vi volevo presentare dei piatti nuovi di oggi. Allora, questo è un piatto di carpacci di spigola orata marinati. Ho l'orata ai pomodori sefkin, spigola con lime, orata di nuovo con i capperi e spigola con pepe verde. Mettiamo due nocette a fianco, un giro d'olio e al centro abbiamo messo del salmone crudo. Vedete di là nella saletta e vi mostro altri piatti successivi. Questa è la nostra mini saletta dove abbiamo portato i piatti nuovi, tra qui abbiamo una tatolata di spigola. qui invece abbiamo dei petali di salmone essiccato al sale grosso, zucchero di canna e cacao servito con del riso venere. Qui abbiamo una tatolata di filetto di tonno laccato al miele condito con olio sale e del sesamo bianco e nero. Questa è una bistecchina di tonno che viene tagliata dal filetto di tonno fresco scottata a 99 gradi condita con del sale di malaya e un goccio di olio. Grazie a tutti!